Marbuto, intanto un commento su questo test. È stato un test importante, venivamo da una mole di lavoro importante perché abbiamo fatto un sacco di giorni a livello fisico molto importanti. Peccato per il risultato, eravamo un po' stanchi a livello fisico, però stiamo portando avanti questo modulo con questo nuovo schema che ci potrà togliere soddisfazioni. Senti, Teramo che ha giocato con due trequartisti più un centravanti, si torna un po' l'antico? Ti piace questa cosa? Sì, a me piace questo modulo personalmente, può essere definito un 4-3-3, un 4-3-2-1. Sicuramente noi attaccanti così riusciamo ad essere un po' più sopportati, anche le due mezze punte comunque riescono a creare un po' più mole di gioco. Per noi è importante portare avanti sia questo modulo sia quello che abbiamo utilizzato in questa prima parte di stagione e poi il mister deciderà quale utilizzare. Ci sono due variabili che possono incidere e anche dare fastidio in questo periodo. Il mercato e la situazione di alcune squadre tipo il Vicenza, che peraltro è anche il prossimo vostro avversario. Tanto la questione di Vicenza, voi come la state vivendo a tanti chilometri di distanza? Noi cerchiamo di non pensarci, nel senso che pensiamo noi stessi di preparare la partita sempre in una maniera impeccabile come abbiamo fatto nella prima parte di stagione, senza pensare all'avversario. Poi quello che succederà, vedremo cosa succederà e ci prepareremo nel modo migliore comunque questa sfida. Per quanto riguarda il mercato si parla molto di Foggia che sembrerebbe in uscita e il tuo nome non c'è, quindi tu sei sicuro, resti a terra. Io come ho già detto mi piacerebbe continuare con questa maglia, poi le decisioni della società adesso sceglieranno loro, nel senso comunque per il momento entrambi sia la società che io abbiamo lo stesso pensiero.